Dal Vangelo secondo Luca Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo gueriva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, Alzati e mettiti qui in mezzo. Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro, domando a voi, In giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla? E guardandoli tutti intorno disse all'uomo, Tendi la tua mano. Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi fuori di sé dalla collera si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Osservavano per vedere se guariva in giorno di sabato. Nuovamente il sabato, nuovamente una norma che viene travolta e stravolta dal legalismo. Nuovamente una feroce disputa contro chi crede di essere fedele alla legge e gradito a Dio, e che invece ne tradisce il volto. Il povero uomo con la mano paralizzata, che viene guarito di sabato, è l'occasione per iniziare una nuova disputa contro l'eccessiva libertà di interpretazione di Gesù. Eppure il Signore è l'unico che fa qualcosa di intelligente e di gradito a Dio. Fa alzare l'ammalato, gli restituisce dignità, pesantemente compromessa in una società che attribuiva alla punizione divina la malattia, aumentando a dismisura il senso di colpa e lo mette in mezzo. È l'ammalato al centro dell'attenzione di Gesù. Non certo una norma attribuita a Dio, una legge fatta per la maggiore gloria di Dio e dell'uomo, non certo per la sua mortificazione. E noi, quando accogliamo le norme scaturite dalla fede, mettiamo al centro l'uomo o la regola? Attenzione, però, oggi si tende a soprassedere a qualunque norma in nome di un inopportuno buonismo. Ricordiamoci sempre che la norma è l'abito dell'amore. Lasciamoci ancora una volta illuminare e provocare della parola di Dio all'inizio di questa nuova settimana. Vi auguro ogni bene nel Signore. Dio vi benedica. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.